È importantissimo perché il modello di Expo, di Expo in generale, ma il nostro modello di partecipazione italiana è legata alla connessione delle competenze, alla interconnessione, quindi al collegamento tra competenze diverse e multidisciplinari che producano innovazione. Quindi il modello AgriFood è esattamente il modello di Expo 2020 ed è il modello a cui si ispirerà la partecipazione italiana, mettere insieme le competenze diverse, trasversali, intersettoriali per produrre innovazione. Ecco, una delle cose emerse nei tavoli di lavoro ieri è l'importanza proprio dell'internazionalizzazione dell'AgriFood italiano. A questo proposito, quanto Expo può essere utile per questo settore ma in generale? Penso che sia utilissimo perché l'AgriFood è portatore di grandi competenze della sostenibilità e anzi l'AgriFood è il settore principale che determinerà i livelli di sostenibilità dello sviluppo futuro del mondo e quindi il modello italiano può essere un modello di rappresentazione di questa nostra competenza e allo stesso tempo trovare opportunità di sua internazionalizzazione e quindi di intercettazione di ulteriori competenze e di investimenti, di fondi di investimento che cercano opportunità di questo tipo. Venire a Dubai a Expo 2020 potrebbe essere una grande opportunità per i nostri agricoltori di incontrare i loro omologhi, i loro pari grado, i loro colleghi degli altri paesi, imprenditori, ricercatori, innovatori. Perché è dal confronto di esperienze sul campo che possiamo tirare, attrarre interesse da parte loro verso noi ma anche acquisire conoscenze e competenze ulteriori. Quindi secondo me è un modo importantissimo, un'occasione importantissima di confronto di esperienze. Grazie a tutti.